buongiorno buon amici benvenuti in un altro video del cretentario oggi mi vedete qua sommerso in mezzo alle super soko team bot e anche altri scooter perché volevo farvi vedere la retromarcia allora ho attivato la retromarcia quindi se avete bisogno contattatemi per la retromarcia sembra una stupidaggine ma alle volte è molto comodo soprattutto se parcheggiamo in discesa leggermente non abbiamo tanta forza magari una ragazza che non può meno per tirarle indietro si tribula un po in questo modo invece ci viene in aiuto questa funzione soprattutto un attimo perché credetemi è un pochettino più pesante e anche un po più alte quindi facciamo un po più fatica ok ragazzi accensione accenerando normalmente si va avanti andiamo avanti un pochettino qua come vedete c'è un tastino schiacciato questo andrà indietro avanti schiaccio e indietro ok questa è una parcheggiamola qui andiamo anche qua come vedete avanti così schiacciamo il tastino che c'è qua sotto stessa modalità della sopra la tc max e indietro rispettiamo avanti schiacciamo e quindi si riparte ok ragazzi il pulsantino adesso lo faccio vedere che qui nella tc max lo vedete ecco qua nella tc max ed ecco qua nella timbott che ragazzi al prossimo video ci sarà la recensione anche di questo scooterone che vedete qua da credentario è tutto ciao 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 ciao